Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo raccolto oltre mille firme in pochissimo tempo, sono due giorni e la raccolta termina questa mattina, però coinvolgendo anche nei prossimi giorni tutte le associazioni, i commercianti e anche tutti i sindacati locali, quindi speriamo che con questo si possa dare un segno affinché l'ospedale possa mantenere i suoi servizi. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, però da domani tutti i cittadini che vogliono apporre la loro firma in sostegno dell'ospedale possono recarsi non solo presso le associazioni che operano a Cagli ma anche nei negozi e presso tutti gli ambulatori medici perché anche i medici di base stanno contribuendo con le loro attività anche a far sottoscrivere i cittadini. Grazie a tutti Grazie a tutti